Tutto esaurito per Massimo Zamboni al Luca Capanueri Underground Festival. Il cantautore e scrittore Emiliano, ospite al Polo Culturale Artemisia, si è esibito in un reading acustico per il quarto appuntamento della manifestazione, organizzata da Gianmarco Caselli. Tantissimi giovani in sala e moltissimi fan della storia CCCP-CSI. L'ex chitarrista del gruppo punk è stato intervistato dal direttore artistico del festival, poi la lettura dei brani tratti dal nuovo libro La Trionferà e l'esecuzione di brani storici nonché del nuovo album La Mia Patria Attuale, fra le tracce storiche tra Fitto, Curami, del mondo, tra le nuove l'esecuzione della title track. Quello di Zamboni al Luca Capanueri Underground Festival è stato un gradito ritorno, il cantautore con il suo universo sonoro coinvolgente e penetrante era già stato ospite della Kermess nel 2018.